No, io te proprio non ti capisco. Mi hai rotto i timpani con la storia della Madonna del Bardo. Abbiamo attraversato mezza Italia. Tutto con la strada, la nebbia. Perché non sei entrato neanche in chiesa per vederla? Cosa legge? Tarkovski. Sono le poesie di Arsenii Tarkovski. In russa? No, sono tradotte. Abbastanza bene. Bottevi subito. E perché? Tra l'altro che le ha tradotte è un ottimo poeta. La poesia è impossibile tradurre tutto l'arte così. Ma sulla poesia posso anche essere d'accordo, che non si può tradurre. E la musica? La musica, per esempio... Che cos'è? Cosa vuoi dire? È una canzone russa. Va bene, ma come avremmo fatto a conoscere allora Tolstoi, Pushkin? E a capire la Russia, poi? Voi non capite niente della Russia. Allora anche voi non conoscete niente dell'Italia. Se non servono a niente i Dante, i Petrarca, i Machiavelli. Certo, è impossibile per noi, poveracci. E allora come possiamo fare per conoscerci? Bisogna distruggere le frontiere. Quale frontiere? Dello Stato. Dello Stato. Dello Stato. Dello Stato. Dello Stato. Dello Stato. Dello Stato.